Siamo nelle campagne di Radispoli, ai Monteroni, qui si trova un po' di tutto e in questo momento l'azienda agricola da Luciana sta mettendo a frutto, ci sta anche il gioco di parole, i meloni che pare siano quasi pronti da portare in tavola. Saranno pronti verso i primi di luglio a campo aperto, finiti quelli di serra verranno questi che sono diciamo il sapore migliore, vengono più genuini. Da queste terre finiscono al mercato di Radispoli in via Ancona, dove si vendono al pubblico. Come avete visto sul campo abbiamo una coltivazione di zucchine, un'ampia coltivazione di zucchine, tante di produzione, la coltivazione di insalate, tutte quante fresche, tra cui le novità, le novità di quest'anno che sono l'iceberg e la lollo, sia rosso che verde, buonissima, abbiamo melanzane, peperoni e tutto quanto di produzione, fagiolini, fagiolini questi qui sono spettacolari, tenerissimi, fini, buonissimi. E per l'estate che consigli daresti per un pasto? Cioè l'imbarazzo della scelta. Buonissimo, veloce, potreste per esempio fare, non so, un gratin di vetitoniste, con zucchine, melanzane, cipolle da forno, gratinate. Oppure per esempio buono potrebbe essere una peperonata, con tutte melanzane, peperone, zucchine, patate, ottime prodotti di stagione, veloce. E può essere mangiata anche fredda, quindi molto 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 gustosa. Grazie.